Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema! Vediamo insieme tutte le news di oggi! Nello star system cinematografico c'è sempre qualcosa di cui sparlare. Tocca ancora una volta alla bella Angelina Jolie. Attraverso le pagine della sua ultima opera, Brad Pitt and Angelina Jolie, The True Story, la biografa Jenny Paul rivela la relazione avuta dalla Jolie niente meno che con Mick Jagger, all'epoca sposato con Jerry Hall. A quei tempi la signora Pitt aveva 21 anni ed era già sposata con l'attore Johnny Lee Miller per l'esattezza. In una lunga inchiesta pubblicata questa settimana dal New York Times riguardante gli stipendi degli attori di Hollywood ai tempi della crisi, è emerso che le star over 30 guadagnano molto meno di quelle giovani. Ovvero Robert Pattinson, Vanessa Hudgens e compagni fanno le scarpe a George Clooney, Robert Downey Jr., Brad Pitt e altri vecchietti del cinema americano di oggi. Arriverà in Italia il 7 maggio il remake dello spaventoso Nightmare, fantastico horror di Wes Craven che con la sua saga ha senza dubbio segnato la nostra adolescenza ed è pronto a terrorizzare quella delle nuove generazioni. A dirigere il nuovo horror è Samuel Bayer ed a interpretare l'ormai famoso Freddy Krueger sarà Jackie Earl Halley. Ed è tutto, vi lascio con il trailer di oggi. Ciao. Ciao. we have to get out of here we're all gonna die all right there's gonna be a crash have you lost your you saw it before it actually happened we're alive and sore are a lot of other people I keep having these visions I see how the next person is gonna die what do you mean the next person survivors in the accident what if we weren't meant to survive what's gonna happen to us I think we can stop it look out I don't know E per oggi è tutto, arrivederci alla prossima puntata! Grazie per la visione!